Ciao a tutti! Benvenuti in questo nuovo video! Comunque, oggi andremo in un posto speciale che vedrete presto. Quindi continuate a guardare il video. Il vento! Ragazzi, siamo arrivati a Southampton e niente, adesso andremo un po' in centro e poi andremo in un posto magico. Scusa, lo taglio sempre perché sono troppo bassa, non c'è più. Ovviamente perché siamo in Inghilterra per franzo, siamo a McDonald's, però ho preso una piadina, e anche lui. E il caffè per me è buon appoggiamento. Siamo scesi e ora stiamo andando al parco dei trampolini, che poi in realtà io non ho mai capito il stesso, c'è i trampolini, i tappeti elastici. Salta salta, mille nomi per sti cosi, ma io vabbè. Babe, come here! No! 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 Siamo prontissimi! Fa un po' freddino, cioè piovigino. Strano in Inghilterra! I can't breathe! Ragazzi, siamo arrivati nel vostro secondo bagno, perché devo farlo con noi. E ora vi faccio vedere come è il nostro sashimi. Inizio fra mezz'oretta, quanti minuti non c'è. E c'è un altro, una cosa, che vi mangio con i pozzini, che fantastici. Tutto chiun! Guardi, che carine, guardi che carine. Guardi, guardi, guardi sull'ottine. Tutto chiun! Tutto chiun! non ti fai non ti fai safety step safety step big bravo dai, non ti fai ooo ooo do you want to try to do something? so show us your skills braga, sumo rendo you ready? wait what are you doing? i don't know, i can't do it that bit, i feel like i can get too much airtime you ready? no failed attempt at the last bit hey hey always failed attempt at the last bit stop oh my gosh oh my gosh oh my gosh go on do a flip in that nooo nooo oh 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 mi riesco anche a prenderlo tutto cadi no, 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 no failure, absolute failure, you are, you are a mess you are a mess no flips allowed, rude it's just random you're tired? no, no, no no, no, no What are you doing? He's silly! You guys, I'm hiding into the... Mi sto nascondendo nel bosco E' arrivato il momento della cena e stiamo nel mio posto che è tipo... E raga scoprirò del... quanto manggerò Sono pienissima di dormi You full? It's tough? Non ho fame Non hai fame? Raga Che piole Sì No Siamo arrivati a casa E niente Le mandiamo un grande bacio Non mi dico Siamo arrivati a casa E noi siamo già pigiammati Cioè noi non siamo pigiammati Io sì Non mi dico Non mi dico Non mi dico Non mi dico I go to la bagno Il toile Il bagno Il bagno Vai il bagno Vai in bagna Bagno 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 Ciao ragazzi Buona giornata Buona giornata